Musica E' stata aperta lo scorso 13 giugno la piscina comunale Felice Guidoricci di Sassonia di Fano una ripartenza che ha coinciso con l'assemblea di voto per l'elezione del nuovo consiglio direttivo della Fano in Fortuna e Nuoto che tra i primi compiti ha avuto quello di organizzare per il periodo estivo le attività della piscina di Sassonia Per 10 undicesimi c'è tutta un nuovo staff di dirigenti che ha molta voglia e stiamo progettando il futuro della società per il bene della società naturalmente e comincia tutto da questa piscina di Sassonia di Felice Ricci e Guidoricci per incominciare un nuovo iter, un nuovo progetto, un nuovo modo di pensare il nuoto a Fano E' possibile partecipare alle attività della Fano in Fortuna e Nuoto contattando la segreteria al numero in sovrimpressione all'indirizzo mail info-fanum-fortuna-nuoto.it oppure tramite i social media Noi dello staff tecnico siamo intenzionati a creare un gruppo di persone competenti che abbiano passione per queste attività per fornire un servizio all'utenza prima di tutto, ai disabili, alla scuola nuoto federale, a tutti gli utenti che verranno in piscina e per primo alla squadra agonistica di creare un gruppo che possa dare delle soddisfazioni a questa città nel futuro Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie a tutti.